Ragazzi andiamo a lavorare un attimo tutta la fascia degli esili plurali, ok? Cambi tra poco a una competizione importante, andiamo a lavorare con l'ergotecnica e il sistema di tessuti mole, quindi il sistema fasciale connettivale. Con questo strumento andiamo a eliminare e ridurre tutte le restrizioni fasciali, le aderenze, così da migliorare la funzionalità e ovviamente anche la fase contrattile del muscolo, che poi andremo a volutare insieme. Grazie per la visione! Fuori tutto? Come va? Croccante! Croccante, mi piace! Ma che volo! Meglio no? Mamma mia! Ma le gambe giù sono leggerissime! Con tutte le aderenze fasciali connettivali, vedrai che vedo mai, vedrai sempre metterlo bene?